Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Isola del Gran Sasso si aggiudica il bando dei Borgo dei Borghi per la linea B. Il comune è il secondo più votato dopo Capestrano e riceverà 1.600.000 euro per poter eseguire il proprio progetto, ambizioso con la collaborazione di più enti del territorio. Siamo molto contenti perché abbiamo lavorato sodo e abbiamo ottenuto un ottimo risultato perché siamo il primo comune tra gli unici due, noi Capestrano, in Abruzzo e tra i più votati in Italia. È un finanziamento da 1.600.000 euro dove noi abbiamo centrato l'attenzione soprattutto su due lari generazioni, due borghi, San Pietro e Isola Capoluogo. Per San Pietro con il coinvolgimento di Lega Ambiente tramite la Scuola Verde rifaremo tutto il Museo delle Acque e anche il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Raga. Per Isola ci saranno coinvolte le associazioni come Tarusse e Le Tre Porte, la Fondazione Parrozzani e l'Università di Teramo tramite la Preside Gallo. Per la rigenerazione quindi degli archivi storici, della biblioteca e un po' di tutta la parte culturale, anche c'è un percorso culturale anche istruttivo per figure che si occupino insieme all'Università che si occupino anche degli archivi in quanto tale. In questo contesto poi ci sarà anche il riamodernamento e la riapertura di sentieri del parco che collegano anche questi centri e collegano anche altri piccoli borghi del comprensorio. Questo può portare anche maggiore turismo a quella che comunque è già un comune fatto di turismo montano e religioso? Sì, assolutamente sì, ma poi c'è l'altro aspetto che è un borgo che ha avuto anche un buon punteggio grazie alla lotta verso lo spopolamento perché questo è uno strumento che va in quella direzione.